Un'estate calda per l'amministrazione Bonauro, ancora nessuna parola da parte del sindaco sulle vicende giudiziarie che hanno riguardato un consigliere comunale di maggioranza e un neoassunto al comune di Nola dagli ultimi concorsi che sono stati banditi. Una circostanza singolare a comuna consigliere e neoassunto perché entrambi hanno superato i tanto chiacchierati concorsi di cui abbiamo parlato banditi da questa amministrazione dove ricordiamolo per carità regolarmente assunti ma sono stati assunti il fratello di un consigliere comunale, il cugino di un consigliere comunale, uno stesso consigliere comunale e il risultato idoneo una candidata nelle liste di maggioranza ha fatto prima prendere il posto al comune di Nola che diventare consigliere comunale e ancora altri che appartenevano nelle liste dell'attuale maggioranza. Insomma rispetto a questa situazione, rispetto a questa circostanza che ha visto coinvolto un consigliere di maggioranza ci saremmo aspettati dei chiarimenti da parte del sindaco e invece fino ad ora il sindaco mette la testa sotto la sabbia e non si sente in dovere di informare la propria comunità sulle circostanze, sulle vicende che stanno appunto riguardando alcuni componenti della sua maggioranza. Alla faccia della trasparenza, eppure sarebbe un dovere informare la propria comunità. Qualche giorno fa poi abbiamo saputo che sono stati a Nola alcuni conduttori del programma Le Iene. Qual è il motivo? Sappiamo che sono stati anche in comune con un incontro con il sindaco, vorremmo sapere qual è il motivo di questa intervista. Per ora a Nola tutto tace, il sindaco non dà chiarimenti ma ci conforteremo con una sua interpretazione del processo a Giordano Bruno in queste straordinarie sere di settembre art.